Questa è una terminologia che potrebbe sembrare complicata, ma noi la renderemo semplice per voi. I contributi figurativi sono fondamentali per la tua pensione. Ma cosa sono esattamente? Sono periodi che, pur non essendo lavorativi, vengono considerati ai fini della pensione. È molto importante capire che i contributi figurativi non sono contributi reali, ma vengono comunque riconosciuti dal sistema previdenziale. Maturano in diversi modi. Uno dei più comuni è durante il servizio militare.